Presidente, quali sono le novità per l'antica Croton? Per l'antica Croton c'è la novità che finalmente il progetto è stato deliberato e quindi dopo quasi un decennio di sofferenze per Crotone, finalmente con un intervento corposo e solido abbiamo deciso di fare una rimodulazione soprattutto in alcune aree della città perché alcune delle aree peraltro anche abbastanza periferiche culturalmente perché adesso poi entreremo nel dettaglio, veramente rischiavano di fare bloccare completamente il progetto. Crotone questi 62 milioni li aspetta da tanti anni. C'è stato un coinvolgimento del Comune di Crotone? C'è stato necessariamente un coinvolgimento di tutte le istituzioni perché voglio parlare da assessore ai beni culturali, è stato il primo progetto assieme al bando Borghi di cui mi sono voluto occupare anche nei tempi, oggi lo possiamo dire col sorriso sulle labbra, della piccola polemica di territorio che era venuta fuori anche nei miei confronti, ma il tavolo antica Crotone è stato il primo tavolo assieme a quello sul bando Borghi che si è attivato proprio nel Dipartimento dei beni culturali, da subito da quando sono stato nominato assessore ai beni culturali. Da quel momento la prima operazione che bisognava fare era la pacificazione di tutte le istituzioni che non si parlavano più, la Regione, il MIC e il Comune di Crotone. Quali sono le altre zone interessate dall'antica Crotone? Nel senso che ci sono degli interventi al centro della città, di fronte al municipio, che è stato anche quello un po' rimodulato perché sarebbe stato inimmaginabile smontare l'intera piazza e renderla un cantiere, ma non solo quello, smontare un'intera piazza per renderla poi visibile anche nelle sue parti più povere, diciamo, e invece ci saranno degli inserimenti, dei tasselli che si apriranno e mostreranno quello che c'è al di sotto e poi insomma un po' da tutte le parti ci sarà il museo da approntare, ci saranno le vie di comunicazione e di collegamento con l'area archeologica di Capocolonna. Devo dire che avremo modo di vedere nascere una grande e bella opera legata ai beni culturali. Lei sta dicendo che siete riusciti a fare sinergia tra enti? Assolutamente sì, era assolutamente necessario, era il primo ingrediente perché questa opera venisse alla luce e ritengo che questa volta con un'ottima sinergia tra enti che peraltro sono rappresentati anche da persone, da politici appartenenti a varie estrazioni, ha trovato quest'ottimo punto di incontro e finalmente il progetto è partito.